Buongiorno a tutti, quella che vedrete fra qualche istante è l'intervista che abbiamo effettuato con una delle persone più influenti nel mondo del vino dei produttori naturali, Sandro San Giorgi. Però prima di andare avanti vi chiedo di mettere like sul video e di cliccare sulla campanellina, in modo che quando pubbliceremo un nuovo video verrete prontamente informati da YouTube. Come dicevo prima, Sandro San Giorgi è una delle persone più influenti nel mondo del vino dei produttori naturali, influente ma anche indipendente, ed è proprio questa sua caratteristica a renderlo una delle persone più autoregoli e credibili in questo particolare mondo. Gran parte della sua carriera professionale è stata dedicata al vino dei produttori naturali, quello che un po' levitatamente viene chiamato vino naturale. Un amore sbocciato verso la fine degli anni 90 grazie ad un ripensamento da lui attraversato e che ha coinvolto l'ambito in cui lavorava, ovvero quello dei vini cosiddetti convenzionali. Ed è proprio in quegli anni che fonda Portos, un progetto che parla di vini e di produttori naturali ed è basato su tre pilastri. La casa editrice, con la quale pubblica i libri suoi e di altri autori, Portos racconta il periodico online ed i corsi, le degustazioni e gli eventi curati da lui stesso e dei suoi collaboratori. Da quel momento dunque Sandro inizia a dedicare il suo tempo e le sue energie al ventino e per i produttori naturali ed attraverso Portos contribuisce ad accrescere la consapevolezza intorno a quello che è, sotto certi aspetti, una vera e propria rivoluzione nel mondo del vino. Ma è arrivato il momento di ascoltare le parole di Sandro di San Giorgi. Io vi auguro buon divertimento e una buona visione. A dopo! La prima domanda che potrebbe essere una domanda un pochino banale, ma secondo me non lo è anche perché noi ce la facciamo spesso. Su cos'è il vino? O cosa dovrebbe essere il vino? Quindi ti chiederei cos'è o cosa dovrebbe essere per te il vino? E lo spin-off della domanda è cos'è o cosa dovrebbe essere per te il vino naturale? Il vino e il vino naturale per me coincidono. Per me il vino buono può essere solo un vino naturale. Non tutti quanti i vini naturali, i vini dei produttori naturali, questa mi sembra l'espressione più corretta, i vini dei produttori naturali, non tutti i vini dei produttori naturali sono buoni. Anzi, con le ultime ondate di nuove aziende comincia a prevalere una massa di vino non particolarmente interessante, qualche volta difettoso. Nonostante questo, lì c'è ancora una speranza e la speranza che nelle prossime annate qualcuno riesca a fare meglio, in pari, e questo si aggiungerà a quei produttori naturali che già oggi producono, fanno dei vini buoni. Quindi questo passaggio è fondamentale. Quindi per me non c'è distinzione. Sono convinto che quello che noi chiamiamo vino convenzionale, vino industriale, che non vuol dire fatto in milioni di bottiglie, ma vino industriale si può fare anche in 5.000 pezzi. Basta soltanto applicare protocolli seriali, protocolli predefiniti, dove ancora prima che l'uva venga raccolta c'è già un risultato dato, un obiettivo di risultato organolettico, espressivo, che viene deciso. Quindi si otterrà quello e non un'altra cosa, indipendentemente dal risultato della stagione. E questo, ripeto, si può fare a livello industriale, quindi con numeri molto elevati, ma anche a livello apparentemente artigianale. Ma non c'è l'artigianato in questo. Quando c'è serialità, soprattutto quel tipo di serialità, che non significa produrre una massa di vino in cui le bottiglie siano tutte quante, una diversa dall'altra, in modo quasi da stravolgere il senso di quel vino. Quando io dico serialità, significa proprio che si decide che tra quelle bottiglie non ci sia alcuna differenza e che quello che succederà, cioè il tempo di trasformazione, porterà questi esempi, questi esemplari, a somigliarsi sempre di più. Quindi paradossalmente invece che fare come fa la vita nei confronti delle persone, che in qualche modo ne definisce la personalità, no? E in qualche modo, in modo epigenetico, trasforma il loro modo di essere. Ecco, ci sono dei vini, anche apparentemente artigianali, che bevuti dopo dieci anni, due bottiglie dello stesso vino si somigliano ancora di più di quanto non si somigliassero all'inizio. Questo non perché convergano le sensazioni, questo è un bellissimo concetto che ha a che fare col vino, ma non c'entra, è perché probabilmente è stata annullata tutta la parte viva di questi vini, e la parte viva spesso del vino corrisponde alla componente emotiva della sua espressività, e quindi tolta la parte viva, tolta la componente emotiva, i vini finiscono per essere come delle regole analitiche, come delle soluzioni chimico-fisiche incapaci di fare quello che il vino dovrebbe fare. E quindi vengo all'inizio della domanda, quindi mi sono subito tolto lo spin-off e vengo all'inizio della domanda. E cioè, che cos'è il vino per te? Il vino per me è un nutrimento. Un nutrimento che non ha a che fare con una particolare fisiologia del mio corpo, anzi, secondo me la prudenza nel consumo del vino è fondamentale, perché il vino contiene una sostanza in abbondanza, e cioè l'alcol, che non è proprio molto molto amico del nostro organismo, o comunque risulta contribuente da un certo punto di vista solo in modiche quantità. E questo è abbastanza chiaro e incontestabile. Quindi non è l'aspetto meramente fisiologico a interessarmi, ma è l'aspetto culturale, spirituale, che il vino può cogliere dentro di noi. Quindi il suo nutrirmi culturalmente e spiritualmente. In questo periodo, e non ho visto praticamente amici, amiche, e quindi ho bevuto pochissimo. E io non sono stato in una crisi di mancanza da vino. Perché? Perché il vino è dentro di me. È già dentro di me. Ed è dentro di me perché ho colto, fino in fondo, tutto quello che lui, dal punto di vista spirituale e culturale, riesce a donarmi. E quindi questo mi permette di amarlo in maniera definitiva, profondamente. E non ci sono più possibilità di staccarsi. Se non arrivi qualcosa come, che ne so, una malattia che mi costringerà a non poterlo bere neanche più, allora dovrò abbandonarlo. Quando tornerò ad assaggiarlo, tra poco riprenderà l'attività didattica, che è il momento che io amo di più, nel quale condividere il vino, ancora più di quanto non sia bello farlo con gli amici intorno a un tavolo, che è bellissimo. Però per me bere insieme agli allievi e alle allieve è una soddisfazione inenarrabile. Ma io, quando arriverà, lo saluterò con piacere. Ma non è che anelo questo momento perché mi manca, mi manca di più il contatto con loro, di quanto non mi manchi il vino. Perché il vino ormai è dentro di me. Mi ripeto e ti chiedo scusa. No, è molto bello, è molto bello come concetto. E sarebbe bello che, che poterlo un pochino anche assorbire tutti noi, nel senso che non c'è il bisogno del vino, perché il vino comunque ci ha già trasmesso delle sensazioni incredibili e quindi tutte le volte che ci si può incontrare col vino è un piacere farlo. Però non si sta, non si cerca spasmodicamente il contatto col vino, ma è un piacere quando succede. Ho recentemente letto il libro di Corrado Dottori, non è il vino dell'enologo, a cui tu nell'ultima edizione hai partecipato anche, hai dato i tuoi contributi in Appendice. Sì, ho scritto una postazione. Una delle cose che, premetto che mi ha colpito parecchio come libro, specialmente il suo percorso di crescita, e di cui vorrei chiederti anche la tua opinione, è sulla figura del contadino, nello specifico del vignaiolo. Prima tu giustamente hai detto che bisogna parlare di produttori di vini naturali. Quindi vorrei chiederti qual è la tua opinione riguardo la figura del contadino vignaiolo nel 2020, in contrapposizione, se di contrapposizione si può parlare, con quella invece dell'enologo. Qual è la tua opinione in merito? Allora, la funzione dell'enologo, a un certo punto della storia del vino, la più recente, è stata necessaria proprio perché il vino è diventato un fenomeno mondiale, ed è diventato un fenomeno mondiale diverso da come lo era già un fenomeno mondiale. Cioè il vino era già un fenomeno mondiale, ma a un certo punto è diventato un fenomeno globale. E quindi la grandissima parte del vino ha cominciato a muoversi non più a livello intracittadino, interprovinciale, interregionale, no? Ma ha cominciato a uscire da tutti quanti questi confini e a viaggiare tanto. Ora, tu devi sapere che il mio percorso inizia alla fine degli anni 70, tra il 77, 78, 79, quando faccio il corso. E anche se sono giovanissimo, ricordo molto bene, perché mi colpiva già a quel tempo il soggetto vino, anche se non lo consumavo, perché ero ancora in un'età in cui non era il caso. Ecco, però mi colpiva già a quel tempo la percezione di una divisione tra quello che era il vino contadino, che per esempio mio nonno prendeva al suo paese, che non era un posto particolarmente evocato alla viticoltura, è un paese della provincia di Latina dove è molto più buono l'olio, per esempio. E però lui arrivava nella sua casa di Latina con questo vino. E poi c'erano dei vini che erano chiaramente industriali, cioè era evidente che fossero dei vini industriali, per come erano conservati, imbottigliati, per come reagivano allo stare lì nei bicchieri, così. Ecco, tu immagina che a quel tempo la divisione del vino per molti dei consumatori era questa. E cioè da un lato dei vini fortemente industrializzati e dall'altro dei vini fortemente artigianalizzati. al punto che gran parte di questi contadini agricoltori che facevano il vino, oltre che fare altre cose nell'agricoltura, in realtà ormai erano occupati in altre mansioni. Per esempio c'era stato un forte spostamento dei contadini verso le città e verso l'industria. Ebbene, questi vini che uscivano da questi contadini del fine settimana erano per lo più dei vini difettosi, dei vini in crisi. Quando Veronelli negli anni 70, 60-70 comincia a scrivere i cataloghi bolaffi delle etichette, lui ha sotto mano in Italia non più di un centinaio di produttori, alcuni un po' più grandi, altri piccoli, non più di un centinaio di produttori. Quindi puoi immaginare quanti erano i vini sfusi cattivi che circolavano. Io ricordo nel 1980, durante il secondo corso dell'AIS, quando un collega corsista e anche ristoratore di Roma, un personaggio importante, che era mio allievo, cioè mio compagno di scuola diciamo, mi disse, di fronte a un vino dell'Abbazia di Novacella, mi disse, guarda la perfezione. Guarda, non c'è una velatura. Guarda, senti il profumo com'è bello, diretto, com'è fresco. Guarda, senti l'acidità com'è precisa. Ecco, quell'esempio stava a dimostrare che, finalmente, da un'azienda che non fosse un'azienda industriale, arrivava un vino buono e pulito. In quel momento è stato indispensabile dare a tante persone gli strumenti per un'enologia più sana. per cui a quel tempo il problema era quello che poi è stato l'opposto. Noi poi siamo andati all'opposto, no? Cioè quando poi la cura, l'enologia, la cura, l'attenzione verso un prodotto sano, pulito, era andata a sostituire il soggetto dell'attività. Cioè a un certo punto tu hai visto proprio il soggetto, cioè il vino, spostarsi, no? E quindi a un certo punto quel tipo di enologia è andata a sostenere se stessa, di fatto, perché evidentemente l'affare, no, di tutto ciò che quell'enologia comportava era diventato così grande che bisognava per forza farcelo stare, indipendentemente dal fatto che il vino ne avesse bisogno, ok? E quando è successo questo siamo passati all'effetto opposto. Siamo passati all'effetto di un eccesso di enologia, di un eccesso di enologia interventista, di un'enologia che, come ti dicevo poco fa, finisce per programmare invece che seguire, curare, gestire, custodire una bellezza, ok? Bene. In quella fase, in quella fase di passaggio, gli enologi sono stati numerosi perché erano tanti i piccoli grandi proprietari che avevano cominciato a dire voglio fare il vino, voglio fare il vino, il vino è un bel affare. Così è stato facile coinvolgere così tante persone nell'attività. E questo ha lasciato il segno perché è diventato indispensabile avere un enologo. È stato quasi praticamente indispensabile. E questo passaggio è un passaggio che poi è entrato... è stata una ferita perché a un certo punto si è creduto che si potesse delegare un compito come quello di fare la viticoltura e di fare l'enologia, no? O c'avevi l'agronomo o c'avevi l'enologo. Mentre invece una cosa che noi avevamo imparato da questi personaggi che Veronelli incontrava, che sono stati un po' la base su cui poi sono nate anche le altre attività, chiamiamole di critica e di cronaca enologica, no? Nella prima guida ai vini d'Italia, edita da Arcigola e dal Gambero Rosso. Perché nel 1987-88, quando nasce la prima guida, non esiste ancora Slow Food. E questa base aveva incarnato perfettamente queste figure, cioè uomini, donne, che avevano le competenze della viticoltura e le competenze dell'enologia. Quindi quando tu mi chiedi come vorresti il vignaiolo, la vignaiola di oggi, la famiglia vignaiola direi, perché a volte si tratta di famiglie, io vorrei delle persone innamorate della terra, ma anche competenti. Cioè non riesco a immaginare un produttore che nel 2020 possa ancora considerare dei difetti evidenti una possibilità espressiva. È un'ingenuità che possiamo giustificare in un periodo storico molto diverso, quando magari anche la cultura della degustazione, la cultura della qualità, non ce le potevamo neanche permettere. E quindi io non vado a discutere come mai quei contadini negli anni 70, negli anni 60, negli anni 70, a un certo punto abbandonata un'idea di terra che ti permetteva di avere un reddito, cominciano a non curare più il liquido. No? Perché evidentemente non potevano. Quindi non mi va neanche, cioè non lo considero un tradimento. Lo considererei però oggi quando ci sono molte possibilità per imparare. E se tu ti metti a fare il vino e fino all'altro ieri facevi il pubblicitario e a un certo punto devi imparare, allora prima cerchi un consulente, ma ti accorgi subito che per quanto il consulente possa essere bravo, sensibile, sei tu che gestisci la relazione. Non puoi pensare che sia lui che si mette e faccia da insegnante. Sei tu che devi, tu produttore, tu produttrice che devi apprendere da lui e a quel punto affrancarti. E quindi devi metterti, devi studiare, devi ascoltare, devi provare, devi sbagliare per riuscire ad affrancarti da questa figura. Certo. Io non ci credo a quelli che si lamentano degli enologi invasivi. L'enologo invasivo è invasivo finché tu gli concedi di esserlo, ma sei tu il proprietario dell'azienda. No? Certo. Poi che la formazione enologica in molte scuole, in molte università, sia una formazione ancora interventista, questo è abbastanza palese. Perché io incontro nella mia attività didattica giovani di 24-25 anni che hanno fatto la specializzazione, magari hanno fatto agraria e poi la specializzazione enologica, beh, io li incontro e loro mi dicono finalmente, ascoltandoti e assaggiando dei vini insieme, io comincio a sganciarmi da quelle catene in cui la didattica di questi termini, l'accademia in questi termini non riesce a fare. Quindi faccio un attimo una postilla alla domanda, ed è quasi una provocazione, ma secondo te gli enologi, la figura dell'enologo è diventato forse anche troppo importante? Allora, io direi che l'importanza dell'enologo, del consulente, che fra l'altro ripeto molto spesso è un agronomo che si è laureato anche in enologia, quindi una figura piuttosto complessa e anche di base piuttosto competente, no? Ecco, quindi non stiamo parlando sempre di persone perché vengono descritte spesso come degli arrivisti, come degli avventurieri. Delle star anche a volte. Ma il fatto che diventino delle star dipende sempre da chi le fa diventare delle star. Poi ci sono persone più disponibili a farsi coccolare come delle star e delle persone ugualmente competenti, e che ti assicuro guadagnano molto ugualmente, che star non sono diventate. E ti assicuro guadagnano molto uguale, perché diventare bravo e molto ascoltato presso alcune aziende ha portato un benessere importante in alcune persone, in alcune famiglie. Quindi dipende da chi ti fa diventare star, ok? Certo. Questa figura è in una fase anch'essa di ripensamento. Capito? Perché deve ripensarsi? Perché deve probabilmente abituarsi all'idea che curare un numero di aziende così elevato in un numero così diverso di regioni quindi comincia a diventare poco sostenibile. Certo. E per quanto si possa essere sensibili alla diversità, loro dicono, noi siamo sensibili alla diversità dei vari terroir, delle varie condizioni, il territorio, no? Tutte queste cose, però le tue soluzioni sono le tue. Quindi la quotidianità che vive un proprietario, una proprietaria che frequenta assiduamente il luogo dove avviene tutto, questa quotidianità non si può avere in nessun altro modo. Non si può avere gratis, non si può delegare. Non te la possono raccontare. Puoi avere una bella intuizione, puoi andare là a assaggiare il vino e sentire che forse si può fare un intervento, ma ben presto la tua consulenza è questo tipo di consulenza. Perché il proprietario ha bisogno di farsi carico di queste responsabilità. e io credo che questo ripensamento probabilmente porterà più aziende a non servirsi dell'enologo come il destinatario dell'ultima decisione. Le aziende dovranno farsi carico perché non c'è niente da fare. Te ne accorgi subito quando l'ultima decisione è di un enologo. Per quanto sia sensibile, intelligente, bravo, l'enologo ce ne sono alcuni che lo fanno. Ci sono degli enologi che fanno anche del loro vino. Anche in luoghi che non hanno questa grande vocazione. Bene, i loro vini sono spesso vini imprevedibili, interessanti. I vini su cui fanno la consulenza non lo sono. E hanno anche un potenziale territoriale più alto. Perché? Perché è chiaro che quando hanno l'ultima parola loro sono conservativi. Tendono a fare un passo in meno, a non esplorare fino in fondo delle possibilità che naturalmente creano dei rischi. Ma chi pensa di ottenere qualcosa senza rischiare? Allora, queste persone, questi enologi, queste enologhe, questi consulenti, che la sera, dopo l'ultima visita in cantina del cliente, spesso devono tornare in albergo, devono tornare a casa, fanno 150-200 km, arrivano a casa alle 10, mangiano qualcosa, vanno a letto e devono dormire. non possono avere il pensiero di qualcosa che si sta muovendo sotto il loro letto e che potrebbe alle 3, alle 5 di mattina creare un problema. È umano questo. È, secondo me, umano e ragionevole che questo accada. Quindi è evidente che a un certo punto queste persone devono fare una scelta molto profonda. Chiaro, chiarissimo. Volevo chiederti ora un tuo parere riguardo, nella fattispecie, il vino naturale, il vino dei produttori naturali. Perché, allora, io quello che ho potuto vedere nel mio background è che, diciamo dal dopoguerra fino ai tempi contemporanei, il mondo del vino ha attraversato vari cambiamenti. Alcune volte dettati dal mercato e quindi dal palato del consumatore, altre volte invece dettati dal marketing, magari di qualche marchio più potente degli altri. Quindi, in un certo senso, convogliare, creare un bisogno. Quello che noi abbiamo visto nell'ambito del vino dei produttori naturali, più che un cambiamento è una rivoluzione. Perché si va proprio, per come abbiamo visto, a modificare il paradigma. Si va a modificare... è una questione ideologica, quasi. Non è più un cambiamento dettato, come dicevo prima, dal mercato o dal marketing. È proprio un cambiamento che nasce dalle persone, da chi il vino vuole farlo e vuole farlo in un determinato modo. È così. Quindi cosa posso aggiungere? No, quindi volevo chiederti, anche secondo te è una rivoluzione, perché io quello che volevo... Sì, la parola rivoluzione la userei sempre con un po' di cautela, ecco. Esatto. Questo è quello che volevo chiederti. Cioè, secondo te siamo di fronte... A che tipo di cambiamento, rivoluzione siamo davanti? Guarda, non ho la competenza filologica, non ho la competenza dello storico, del filologo, del letterato, per dire, per pensare se è una rivoluzione nel senso anche etimologico del termine o meno. Questa è una risposta. Io non la chiamerei una rivoluzione, però un forte spostamento di attenzione. Questo è sicuro. E questo schiaffo, che io dico ogni tanto il vino naturale mi ha dato, è stato utile perché lo schiaffo fa una cosa. Ti dice, prova a guardare da un'altra parte e non guardare più nella stessa direzione. Questo è stato per me, come innamorato del vino, è stato fondamentale. Perché è stato il vino naturale a riportare me nell'amore col vino. Senza il vino naturale probabilmente mi sarei stancato. E invece, con l'arrivo del vino naturale, sono arrivate dentro di me tutta una serie di istanze che io stavo coltivando. E questo è successo nel cuore degli anni 90, 95, 96, 97, 98, 99, che sono stati gli anni, come dire, più importanti dal punto di vista anche didattico e editoriale per Slow Food. Perché è nel cuore degli anni 90 che diventa un movimento mondiale. Insomma, quel periodo fu una cosa incredibile per me perché cominciai a percepire l'esigenza, anche emotiva, del vino. E quindi cominciavano a piacermi dei vini che non è detto che piacessero ai miei colleghi. E alcuni vini che i miei colleghi consideravano di alto profilo cominciavano a stancarmi. Li sentivo un po' ripetitivi, un po' seriali anche tra di loro, nonostante i terreni e i territori fossero abbastanza diversi. E questo ha cominciato a portarmi delle domande e quando poi c'è stata la grande crisi tra il 97 e il 99, la mia grande crisi, io poi porto Senato inevitabilmente. Al di là del fatto che io abbia lasciato Slow Food, è stato inevitabile far nascere un soggetto editoriale e di divulgazione che potesse trasmettere quello che io stavo provando. E cioè la necessità di riprenderci il vino nella sua interezza, la necessità di abbandonare un approccio alla degustazione che è un sezionare chirurgicamente il vino in pezzi. Mentre invece io ho subito sentito che il vino naturale ti chiedeva un altro approccio. Ecco, il vino dei produttori naturali ha fatto questo. È stata una rivoluzione? Io direi che è stata una liberazione. Io la sento più così. Una liberazione. Cioè ci ha liberato da una serie di vincoli che ormai avevano stretto la tecnica enologica con la degustazione in una specie di meccanismo che porta a un cortocircuito in cui perdi il senso della bellezza, perdi il senso di benessere, perdi ciò per cui il vino è così interessante. Certo, è un po' una sorta di creare un'empatia intorno al vino, nel senso avvicinare le persone anziché allontanarle, per cercare una dialettica un pochino più semplice, meno autoreferenziale, un pochino più… che si adatti anche… che riesca a raggiungere anche le… tante più… quante più persone possibile, perché quello che noi abbiamo visto e che sentiamo anche proprio attraverso il blog è che molte persone, quando gli parli di una degustazione, sono un pochino spaventate, perché specialmente quando inizi a parlarvi dei profumi, delle varie analisi visiva, olfattiva, gustativa… secondo noi, quando uno degli obiettivi è proprio quello che probabilmente si deve dare anche di tutto il mondo, dei produttori del vino naturale, è proprio quello di avvicinare il consumatore invece che allontanarlo, utilizzando anche una dialettica un pochino più empatica. Ecco, forse dialettica più empatica è la cosa più importante. In realtà il vino naturale complica le cose alle persone, perché, a differenza del vino convenzionale, il vino dei produttori naturali non dà punti di riferimento. è più impalpabile, diciamo, si stende su un terreno meno conosciuto. Addirittura la sua bellezza è rinnovare questa imprevedibilità, mano a mano che procede l'assaggio. Quindi puoi immaginare dal punto di vista di chi vorrebbe invece possedere quel liquido come può trovarsi male, perché non gli dà punti di riferimento, no? E allora, nella condivisione di un'emozione, di un'esperienza enologica, di una degustazione, bisogna, come hai detto bene te, avere un approccio empatico. Questo però non ci libera dalla complessità del vino. Qual è allora il punto d'incontro? Il punto d'incontro, ed è quello che dico sempre a tutti quelli che partecipano al corso, non avete l'obbligo di trovare niente. Non devi riconoscere nulla. Non è necessario riconoscere nulla. L'unica cosa che conta è ciò che senti tu. E quello che senti c'è. Perché lo stai sentendo. Allora, parti da questo principio. Io comincio a sentire. Non sono obbligato a riconoscere, devo riconoscere quello che tu ti aspetti, il docente ti aspetti che io riconosca. No. Io mi dedico al vino con i miei strumenti, con la mia sensibilità, col mio amore. Mi faccio assorbire da questo momento. Io infatti in questi momenti chiedo il silenzio, perché per me è molto importante che ognuno sia solo con il proprio calice. Quel momento di solitudine è un momento di solitudine, come possiamo chiamarla, oggettiva, perché possa essere rafforzato il rapporto soggettivo e individuale con il liquido. Poi, quando è finito il momento della degustazione, allora possiamo raccontarci quello che abbiamo sentito. E possiamo all'inizio usare anche una terminologia più grezza, una terminologia che non ha ancora fotografato con maggiore finezza, con maggiore sottigliezza quello che stiamo provando. Ma poi, ecco, lì il docente è importante perché ti prende per mano e in qualche modo ti aiuta anche con gli altri allievi, le altre allievi, a tradurre quello che si sta sentendo. E uno diventa sempre più... ha sempre più fiducia nei confronti della propria sensibilità. Questo è quello che bisogna fare. Rafforzare la fiducia nella sensibilità dei vari soggetti. A questo punto hai capito che per fare questo ci vuole una relazione empatica. Sia che qualcuno ti guardi, ti veda in diretta, perché sei presente in quel momento, sia che qualcuno ti legga. Anche quando si scrive, devo essere più empatici, cercando proprio di trasmettere questa idea di possibilità, non di verità rivelata. Io, quando scrivo di un vino, sono fortemente soggettivo, per cui non punto a diventare obiettivo. Ma col vino, che è una bevanda soggettiva e individuale, io non voglio nessuno che si possa pensare di permettere di parlare di oggettività. Ok? I degustatori, quando si incontrano intorno a un tavolo, non devono avere l'obiettivo di mettersi d'accordo. Devono avere l'obiettivo di dialogare e cogliere insieme quello che si sta sentendo e magari cucire anche una versione comune che avrà sempre dei ma. Avrà sempre qualcosa su cui non si può essere d'accordo fino in fondo. No? Il rapporto emotivo è un rapporto individuale che tocca delle corde che non sono rivelate, che non devono essere per forza rivelate. Uno non sa sempre, fino in fondo, perché è rimasto colpito da quell'emozione. Per non parlare poi del fatto che il vino è lui stesso in trasformazione. Quindi lo siamo noi e lo è anche lui. E allora quando noi parliamo di una degustazione, parliamo di un momento, di un incontro, di quel giorno, di quell'ora, di quella sera, e di quel pranzo e come eravamo in quel momento. E il vino come stava. Per esempio, era probabilmente influenzato dalla luna, era influenzato dalla pressione atmosferica, era in una di quelle fasi che noi chiamiamo di finestre aperte o era in quelle fasi di finestre chiuse. I produttori stessi raccontano, le produttrici, i produttori raccontano che quando hanno il vino in casa, nella fase di maturazione e lo vanno ad assaggiare con una certa frequenza, ci sono giornate che lo odiano. Il loro figlio prediletto lo odiano, perché lui in quei giorni non parla, non si manifesta, non ha nessuna voglia di aprirsi. E allora potete immaginare se questo succede quando tu sei solo consumatore e quindi non sai neanche cosa aspettarti. Ecco perché quella che tu chiami correttamente una relazione più empatica non può non passare attraverso queste considerazioni. Ti è piaciuto quel vino? Bene, raccontami che cosa è successo. Dove eravate? Poi entra un po' nel racconto del vino. Fammi capire se per esempio quella bottiglia era una bottiglia che si ritraeva un po', oppure se quella sera quella bottiglia era particolarmente esuberante. Raccontami queste cose e allora io potrò capire. Certo. Senti, volevo chiederti ora due parole riguardo all'anidride solforosa. Senza voler fare un'apologia dei solfiti, però secondo me bisogna anche dire che non sono il male assoluto, cioè anche perché l'anidride solforosa ha una certa, una sua importanza per quanto riguarda la conservazione del vino e altre cose. Qual è la tua opinione in merito a questa abitudine che si sta sviluppando di far passare un vino come buono solamente perché o non ha solfiti o comunque ne ha di meno? Appunto, vedi, paradossalmente in questi casi si fa il gioco che si vorrebbe combattere. Cioè noi vogliamo combattere la semplificazione del convenzionale, vogliamo combattere la mancanza di emotività e di vita del convenzionale, che è spesso fare i vini in maniera molto inquadrata, usando la cetta e non il cesello, no? Ecco, quindi quando uno pensa al vino convenzionale, pensa a dei vini fermi, immobili, cristallizzati, no? Ecco, quindi nel momento in cui tu prendi e usi un solo soggetto, un solo mezzo, cioè l'anidea solforosa, il metabisulfido, e lo metti come il responsabile del buono o del cattivo, stai facendo esattamente lo stesso gioco. E lo hanno dimostrato i produttori convenzionali, perché appena qualche anno fa, appena qualche anno fa qualcuno ha detto che la solforosa era il male assoluto, come hai detto te, questi ci hanno messo sei mesi e hanno fatto subito le prime bottiglie zero solfiti, no? Dove la carica batterica, la carica di vita, la carica di lieviti venivano azzerate prima ancora che tutto quanto cominciasse. Ecco, hai voglia, facevi dei vini che erano senza solfiti perché erano delle bare, non erano dei vini, erano delle bare e quindi nelle bare di solito ci vanno soggetti senza vita e c'è poco da fare insomma, no? E allora hai voglia, non la metti la solforosa perché non c'è niente da proteggere, non c'è niente da conservare, niente da difendere, no? Ecco, quindi io sono passato attraverso le varie fasi del vino, quelle che tu prima chiamavi le mode, non si sa chi ha cominciato prima, se i produttori, se la moda, bisogna dire che qualche volta il vino si aggancia a un cambiamento sociale. Per esempio, questo te lo racconto così come episodio, no? Tu devi sapere che tu sei giovane, quindi non lo puoi ricordare, ma negli anni 80 esplose la moda del vino bianco, ok? La moda del vino bianco però prende la sua radice negli anni 70, quando dalla metà in poi degli anni 70 il marketing, e secondo me anche qualche idea commerciale sugli alimenti, comincia a sposare delle tesi di alleggerimento. alleggerimento di grassi, alleggerimento di proteine, alleggerimento di peso, alleggerimento in tutti i sensi, ok? Quindi la prima pubblicità del famoso Glenn Grant, colore chiaro, gusto pulito, che esplode nel nostro immaginario negli anni 80, la prima pubblicità va in onda nel dicembre, quindi per Natale, del 1974. Ok? Quindi tu puoi immaginare com'è. Quindi il vino qualche volta segue quello che in genere sta cambiando anche a livello sociale, ok? Quindi era inevitabile che rispetto alla leggerezza, alla estemporaneità degli anni 80, i famosi anni 80, no? Ok? Poi negli anni 90 si rispondesse con peso, concentrazione, potenza, densità e così via. E adesso che sono tornati i vini leggeri, no? Ecco, quindi c'è sempre nel vino c'è un elemento predittivo, è un elemento invece di seguire la trasformazione sociale. La solforosa chiaramente segue anche lei questo. Per esempio, prima era uno strumento straordinario per permettere al vino di conservare la sua freschezza, la sua fragranza. In Francia, gli stessi consumatori francesi, anche gli esperti, non bevevano i vini bianchi francesi di alto profilo, non solo perché costavano molto, ma perché sapevano che erano molto carichi di solforosa. Io mi ricordo questi clienti, questi innamorati del vino francese, che quando venivano in Italia si portavano delle bottiglie di vino rosso anche per mangiare il pesce crudo, no? E quando io gli proponevo una bottiglia di vino bianco, la prima preoccupazione era andiamo bene? Perché sapevano che la solforosa che c'era nei vini bianchi della Borgogna, dell'Alsazia, nei bianchi di Bordeaux e nei bianchi della Loira era talmente elevata da procurare più di un fastidio. Per esempio, no? Ecco, la solforosa, poi a un certo punto ci si accorge che per amministrare e custodire la vita ce n'è bisogno di molta meno. Anzi, tu favorisci la vita, devi favorire la vita. E quindi se devi favorire la vita, la solforosa la devi usare solo quando è necessaria, quando serve. Ok? Bene. E allora inizia il dibattito. Allora, mi ricordo una battuta bellissima. A un certo punto Maule va a trovare Valentini, Edoardo, e gli dice Maestro, ma lei se crede nella fermentazione spontanea, che è il nostro obiettivo, stiamo parlando dei primi anni 2000, dei primi anni del nuovo secolo, 2001-2002. Se lei crede nella possibilità della fermentazione spontanea, che è uno dei nostri elementi di base, no? Per la bellezza dei nostri vini naturali. Perché lei usa un po' di solforosa all'inizio, prima? E lui dice perché io sono razzista. Dice io certi lieviti e certi batteri non li voglio neanche vedere. Non li voglio. Ecco, quindi inizia... Ecco, questo è un dibattito intelligente, dove una persona non deve nascondersi dietro l'uso della solforosa, ma anzi, ha ragione, non ha ragione. Questo non è di nostra competenza, no? Noi però possiamo dire che questa sua spiegazione è una spiegazione realistica, giusta. Ok? Dal suo punto di vista è ampiamente legittima. E poi col tempo, molti che credevano che la fermentazione spontanea potesse risolvere tutto, anche in condizioni estreme, cioè quando l'uva non era per niente in buone condizioni, hanno scoperto che la solforosa ha una sua utilità. Ok? Ora, scusa e chiudo il discorso. Vai, vai. Il nemico del vino buono è il concentrarsi su un solo soggetto e continuare a dividere, a suddividere l'idea del vino su pezzi, no? Oggi la solforosa, l'altro ieri era la temperatura imposta, la temperatura controllata, dopo domani sarà un'altra cosa, la filtrazione, la chiarifica e così via. Fra l'altro, non so se ci fai caso, ma proprio questi discorsi portano a una grande semplificazione e io sono contrario a questo. Sono contrario alla semplificazione. Perché questo riduzionismo non aiuta la bellezza del vino. Non è utile. può essere utile? Certo, ma non deve portare a questo livello di semplificazione. Per esempio, allontana i discorsi dalla viticoltura. Perché? che è ancora oggi l'unica vera grande base per ottenere un vino da un produttore naturale. E questi continuano a litigare sulla solforosa quando in realtà bisognerebbe parlare di una cosa più articolata, più complessa, che non si può risolvere in un sì e no. Certo. Era esattamente l'intento della mia domanda farti arrivare a questo punto. Perché era proprio... Io volevo appunto sentire la tua opinione in merito a quello che è anche una nostra sensazione che non è tutto riconducibile all'uso della solforosa. Ci sono prima una serie di elementi da valutare, come dici giustamente te, la viticoltura, ma anche le pratiche in cantina. Prima di andare a fare le pulci, permettimi il termine, sull'utilizzo o meno della solforosa. È una semplificazione, come dici te, che non va bene, sbagliata, e che probabilmente, per come la vediamo noi, dovrebbe essere anche uno dei cavalli di battaglia del movimento dei produttori naturali. L'obiettivo, cioè il vessillo, dovrebbe essere l'interezza del vino, la complessità del vino, la sua bellezza che è fatta di agricoltura e di competenza enologica. Un contadino deve diventare anche un bravo vinificatore, quello che è stato un bravo vinificatore e ha lavorato per altri diventerà un bravo contadino se vuole fare un vino buono. Insomma, questo è quello che dovrebbe succedere. E quando uno lavora nella viticoltura, io mi accordo che non ha tanta voglia di chiacchierare. E quindi è evidente che a volte, a semplificare, sono persone che questo lavoro non lo hanno mai visto, lo hanno visto soltanto da fuori e allora preferiscono buttare lì delle cose, delle battute, delle cose che semplificano questa comunicazione. E allora, ma in realtà noi sappiamo che parlare della viticoltura è un percorso complesso, è fatto di quotidianità. Anche quelle che noi potremmo chiamare delle regole sono molto difficili da individuare, da fissare, anche da trasportare in altre situazioni. Quelle che noi possiamo definire come una disciplina non è così semplice. La disciplina è probabilmente un approccio morale, un approccio di anima, di intelligenza alla realizzazione del vino. Ecco, questo possiamo chiamarlo una disciplina. Ma poi nella quotidianità di ogni lavoro c'è qualcosa che se non lo fai, se non lo vivi, è molto più complicato poterlo restituire. Ecco perché io dico cautela, anche con i termini un po' esaltanti. Anche il termine rivoluzione, a me mi aveva fatto impressione quando avevano cominciato a usarlo, proprio perché rivoluzione e resistenza anche, mi fanno un po' impressione perché ho la sensazione che si stia volendo semplificare qualcosa che è più complicato da raccontare ed è più faticoso da raccontare. Allora permetti, uno dice, sai che ti dico, io voglio fare presto. Poi se questo produce poi degli effetti anche positivi, ci può stare. Se qualcuno mi dice, sai, io alla fine mi sono innamorato perché ho letto quella cosa dove c'era scritto rivoluzione e resistenza. Bene. Però ti accorgi subito, poco dopo, che questi termini non hanno dei sostegni importanti. Mi sembra che abbiano delle gambe molto delicate. Certo. Tu in questo discorso hai introdotto un concetto, quello della disciplina, ed è l'argomento della prossima domanda. Io volevo chiederti, si è visto recentemente che in Francia è stato istituito il disciplinare per i vini naturali. Tu sei favorevole o contrario ad un disciplinare? Visto che l'Italia comunque è sommersa di disciplinari, di OCG, IGP, IGP, ce ne sono per ogni tipo di attività c'è un disciplinare. secondo te è giusto o è sbagliato? È una strada percorribile oppure no? Allora, intanto noi a Portos abbiamo affrontato la questione di questo che tutti chiamano disciplinare accettato, così, e in realtà abbiamo scoperto, queste sono le notizie che abbiamo, abbiamo scoperto che si sta facendo, si è fatto, in realtà soltanto si è autorizzato un gruppo di produttori a poter usare questo termine. Quindi non si è certificato a livello statale che esistono i vini naturali e che vengono certificati da un nucleo, da qualcuno, da un progetto, da... non c'è questo, non è stato fatto questo. Ecco, questo vorrei, non per spegnere l'entusiasmo e basta, perché un po' di entusiasmo si è spento quando si è scoperto che si trattava sostanzialmente dello stesso disciplinare, non nel senso degli stessi regole, ma dello stesso sistema che era stato messo a punto dai produttori di Vinnatur che porta i produttori di Vinnatur a scrivere che sono produttori di Vinnatur e nessuno glielo impedisce. Gli osservatori esterni, fra cui per esempio molti italiani, hanno visto il loro entusiasmo spegnersi un po' perché credevano, dice, ammazza, i francesi sono così avanti che lo Stato riconosce una certificazione e la fa diventare una cosa a cui tutti si possono appellare. E invece no, quello lì è un marchio, che è una cosa un po' diversa da una certificazione. Perché io Stato ti autorizzo a usare il marchio ma non ti certifico niente. Allora, io credo che prima di decidere il disciplinare, perché quello di Angiolino e del gruppo di Vinnatur ha una sua credibilità. Poi sono anche d'accordo con Corrado Dottori che dice che è impossibile quindi non è, o almeno lui dice che è impossibile, sono quasi d'accordo con lui che è difficile. Però ho la sensazione che prima di farsi il disciplinare i produttori naturali devono fare un'associazione di categoria seria. Una seria associazione di categoria. Io l'ho scritto anche qualche anno fa, solo una serie, scusate, una serie associazione di categoria e quindi unita, compatta e secondo me viste le possibilità anche piuttosto numerosa, per cui anche piuttosto influente, perché quando c'hai un bel numero riesce ad essere anche più influente, riesce poi a mettersi d'accordo su un disciplinare che poi, quando viene portato come esempio, anche a livello nazionale, anche se non viene certificato dallo Stato, però l'associazione è forte, difende i propri interessi, che sono quelli di fare un vino buono, ok? Di fare un vino buono, un vino elegante, un vino magnetico, un vino interessante e che porti benessere non banalmente sano, no? Il vino buono deve portare un senso di benessere, che è un benessere complessivo, ci vuole evidentemente qualcosa di molto più articolato. Ecco, quando un'associazione di settore, di professionisti si riunisce su questo, poi fare il disciplinare è possibile e maggiore è l'avvicinanza fra persone apparentemente diverse, anche da un punto di vista caratteriale, delle ambizioni, però quando tu cominci ad avvicinarli in una stessa categoria, in una stessa unione, chiamiamola professionale, allora il disciplinare diventa più semplice, più elementare, se vogliamo, perché ci sono delle cose su cui non c'è nessuno che discute. La fermentazione spontanea è indispensabile, punto. Il controllo della temperatura si fa solo in un certo caso, in un certo modo, ma non esiste l'imposizione della temperatura, che sono due concetti molto diversi. La filtrazione non si fa. Cioè, ci sono delle cose su cui è molto facile mettersi d'accordo, ma prima crei un'associazione che ha tutto l'interesse di difendere queste cose qua. Io avevo scritto che, secondo me, un'associazione seria crea al proprio interno delle figure che vengono elette ogni due o tre anni e che fanno loro da garanti dei propri colleghi. E se tu vedi che favorire un collega che non si comporta in un certo modo e che viene invitato, viene educato, come dire, aiutato a comportarsi, ma alla fine non lo fa, sei tu il primo a rimetterci. Perché quello che stai difendendo è un marchio, è un'associazione tra persone che ci credono, che ci hanno creduto. Ecco, io prima ancora di parlare di questo, parlerei con i produttori delle varie associazioni, che purtroppo invece che diminuire aumentano. Ma non perché non mi piacciono i produttori delle varie associazioni, ma perché secondo me bisognerebbe stare seduti e non uscire da una riunione senza un'associazione vera. Per cui qualcuno forse dovrà fare qualche passo indietro, qualcuno magari qualche passo avanti, ma si sceglie un'associazione vera che invece che dividere tenga le persone vicine allo stesso progetto. Quello che avete ascoltato sono comunque le parole di Sandro San Giorgio, a cui va il nostro grazie veramente di cuore per aver partecipato a questa mia intervista. Insieme a noi abbiamo toccato vari argomenti, quelli che secondo noi sono importanti per approfondire la conoscenza, circa il mondo del vino dei produttori naturali. Io spero davvero che questa video intervista vi sia piaciuta, se così è stato mettete un like al video e lasciate pure un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!